signori buongiorno oggi una bellissima giornata sono entrato dentro dentro il garage c'era il cagnolino che scalpitavo vuole uscire vuole uscire ed eccolo qua qui abbiamo Pluto guardate la lingua di fuori Pluto volante quindi adesso vediamo cosa succede lo facciamo facciamoci fare un giro sto ragazzo 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti 4 minuti 4 minuti 5 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 minuti 6 minuti 6 minuti 5 minuti